Questo video riguarda i migliori 3 spazzolini elettrici. Il vincitore della qualità è il Philips Sonicare Diamond Clean 9000. Se devi diminuire la pressione, lo spazzolino emette un suono pulsante per avvisarti. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore. Diamond Clean 9000 include Clean, White Pube, Gume Health e Deep Clean per soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia dentale. La modalità Clean è ideale per un'eccezionale pulizia quotidiana, White e per la rimozione delle macchie. Le testine intelligenti ti consentono di usare le modalità e intensità giuste per la miglior pulizia possibile. Per esempio, se usi la testina 3W Premium White, la tecnologia Brush SYNC del tuo Diamond Clean 9000 sincronizza la tua testina con la modalità White per un migliore sbiancamento dei tuoi denti. Tutte le testine si usurano nel corso del tempo. Pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Oral-B Pro 3 3900N. Prova lo spazzolino Pro 3 di Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo. L'elegante manico dello spazzolino elettrico Pro 3 ti aiuta a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai dentisti. Dotato di timer professionale, ti consentirà di spazzolare i denti per due minuti. Inoltre, grazie a un avviso ogni 30 secondi, saprai sempre quando è il momento di passare all'area successiva. Spazzola i tuoi denti. L'esclusiva testina rotonda di Oral-B penserà al resto. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso più bianco sin dal primo giorno. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360, riduce la velocità e ti avvisa quando stai spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate. Il vincitore del premio è l'Oral-B Cross Action Vitality. Lo spazzolino elettrico Oral-B Vitality offre una pulizia eccezionale clinicamente dimostrata rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. La forma arrotondata della testina Precision Clean è pensata per pulire ogni singolo dente, mentre l'azione pulente bidimensionale applica movimenti di oscillazione e rotazione per rimuovere meglio la placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Il pratico timer aiuta a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai dentisti, pari a due minuti. Il design professionale della testina dello spazzolino avvolge ogni singolo dente, mentre l'azione pulente bidimensionale aiuta a rimuovere più placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Il pratico timer integrato nel manico dello spazzolino elettrico ti avvisa quando hai spazzolato i denti per il tempo consigliato dai dentisti, pari a due minuti. Modalità pulizia quotidiana Oral-B offre un'ampia gamma di testine sostitutive, pensate per rispondere a tutte le esigenze di igiene orale. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.